Mentre Francesco Benigno si è autoincatenato al resort, dove alloggiano gli autori dell'Isola dei famosi 2024, rifiutandosi di prendere il volo di ritorno, per l'Italia, si continua a parlare del Grande Fratello 2023 e degli ex Geffini alle prese con la realtà Beatrice Luzzi e la vicina crisi tra Mirko Brunetti e Perla Batiero. Per un pelo non ha vinto lei il Grande Fratello 2023, dal momento che sin dallo scorso settembre tutte le nomination, i televoti eliminatori e per la preferenza del pubblico l'avevano vista trionfare con percentuali fuori dal comune Ma la finale è toccata a Perla Batiero. Ora Beatrice Luzzi parla di lei e Mirko Brunetti Grande Fratello, Beatrice su una coppia, non durano.Per quanto riguarda la relazione passionale e travolgente, priva di spinte razionali ma puramente dettate dalla chimica, come è stato chiaro sin da subito nello spiato appartamento di Cinecittà, tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi per lei non c'è più trippa per gatti Lui intanto spera di riconquistarla, ma secondo i fan social potrebbe anche trattarsi di una mossa a chiappa riflettori Ma lei cosa pensa delle altre ship? Durante il Grande Fratello 2023 ha sempre dimostrato invidiabile lucidità Come ha detto a Superguida TV la coppia nata nel reality che per lei avrebbe più chance sarebbero Letizia Petris e Paolo Masella Grande in opera Anita Olivieri e Alessio Falsone, come per gran parte del pubblico su X Dubbiosa invece riguardo Greta Rossetti e Sergio Dottavi, potrebbero farcela E infine la profezia su Perla Batiero e Mirko Brunetti.Secondo Beatrice Luzzi il rapporto tra i ragazzi sarebbe, già da tempo, un legame consumato e perciò avrebbe poche possibilità Lei è entrata grazie a Mirko e ha ottenuto spazio grazie a quello La relazione è stata decisiva.A me stava simpatica nonostante avessi una visione di una che è troppo concentrata su di sé Ma il fatto che abbia avuto un ruolo di spicco nell'episodio al ristorante, non posso dimenticarlo, la sentenza Dopo l'adrenalina da Vittoria, vedrete come Mirko scapperà, o, l'unica che ha il coraggio di dirlo, sono spacciati Gli importa solo della fama che hanno insieme, pochi mesi, scrivono dei fan su X